Il nostro appoggio a questa manifestazione, che riteniamo sia molto importante perché la funzione dell'università non deve essere soltanto quella di formazione superiore, però deve essere in qualche modo una funzione di stare vicini al territorio, quindi quelle che sono le produzioni al settore agroalimentario, come per esempio noi ci occupiamo e questa la reputiamo una cosa molto importante ed è per questo che ogni anno noi siamo presenti appunto come Dipartimento di Agraria, sezione di microbiologia, in questa manifestazione tramite appunto me e il professor Farris, sia nell'organizzazione sia in quello che sono i nostri rappresentanti anche nella parte di degustazione dei vini, quindi nel concorso della mattina e talvolta anche nel piccolo convegno che viene fatto il pomeriggio. Contiamo appunto di continuare ad esserci anche nelle prossime edizioni.